Buongiorno a tutti, questo è un ennesimo vlog anche se oggi, come sicuramente avrete letto dal titolo, andremo in stage insieme e ho voluto fare questa cosa e farvi vedere una giornata di stage anche se una giornata, cioè nel centro statico non vedrete nulla perché non posso riprendere però io riprenderò come sempre questo è il mio outfit perché tanto poi mi dovrò cambiare con le cose quindi io mi tasto così tanto per, tanto arrivo là e mi cambio mi sono messa come sempre questa pelpetta che ho messo anche ai Wendy a Roma questa qui c'è un M i side leggings che tanto io me li tengo sotto i pantaloni con l'idea estetica quindi metto sempre le leggings e gli hug che finalmente mi sono arrivati e mi sono decisa a comprare quindi sono troppo belli e qui c'è uno spettatore c'è uno spettatore che guarda la mamma e mentre mi sono anche truccata e tutto ieri tra l'altro mi sono fatta l'extension alle ciglia quindi se vedrete così tutto insieme è per quello perché sapete che io ho un rapporto di odio con le mie ciglia pazzesco e quindi volevo farlo da un bel po' poi quei due sono due pacchi di due scarpe che ho comprato ultimamente mi sto dicendo tutto insieme perché è un po' che non parliamo in suame e appunto ieri mi sono arrivate queste che sono le Dr. Martens queste qua basse fatte a Oxford che volevo da un sacco di tempo e appunto poi ho comprato gli hug e bla 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 quindi vi faccio vedere un attimo queste ciglia che sono pazzesche guardate non so cosa si possa vedere però sono veramente belle 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 danno proprio un'altra forma all'occhio e tra l'altro ho anche messo le lenti vorrei cercare di portare le lenti per un po' di tempo ho preso con le mensili e ok quindi adesso anch'io l'ho qua all'armadio e andiamo perché io devo entrare alle 9 al negozio e sono le 8.46 allora devo parlare in bassa voce perché se no mi danno allora questo è il mio outfit come vedete guardate si vede mi vede mi vede ok e magari qua si vede romaggio che morbido che morbido ok guardate che bel tempo che c'è ora sto facendo la mia pausa sto camminando con i miei agghetti sperando di non trovare pozzanghe sono terrorizzata comunque sto andando a casa di mia nonna perché io ho un'ora di pausa e praticamente durante quest'ora di pausa io posso fare quello che voglio uscire al negozio e bla bla quindi io ho a casa fortunatamente di mia nonna qua e quindi vengo a mangiare qua e c'è una ragazza che fa lo stage con me l'ho accompagnata un attimo a prendersi da mangiare Valentina seguire questo vlog la saluto l'amo tanto e adesso appunto lo sto venendo qua ho un'ora dall'1 alle 2 quindi me la guodo e adesso camminando andiamo oddio come stanno facendo e chi è sta bella ragazza sto io oddio che ti sei allisciata perché ti sei fatto si stai facendo il vlog vuoi venire con me con nonna si 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 fatti senti il posto sono un po' fredda eccoci qua sto per tornare dentro non mi mandate per sopore non voglio sapete quella è la cosa è entrare e sapere che poi uscirò alle 6 è quello il mio disagio perché poi stare là dentro alla fine non è che ogni tanto guardi ogni tanto pulisci cambi perché la maggior parte delle cose che faccio scusate che mi pulisco è questo scusate che è scusate 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 ecco la maggior parte delle cose che faccio è praticamente pulire cambiare magari non so se siete mandati in un centro estetico comunque praticamente è entrato in cabina fate quello che dovete fare poi quando uscite c'è tutta la carta cosa da pulire ecco lì intervengo io quindi questo altri miei amici invece li fanno proprio lavorare però a me non è successo questa fortuna o sfortuna perché non so comunque appunto oggi c'è un bellissimo bellissimo sole tra l'altro non so voi cosa stiate ecco così questo è lì comunque questa macchinetta riprende tipo benissimo però c'è un cielo totalmente azzurro anche se la cosa che fa freddo è il vento proprio il resto ok qui adesso torno nel centro che adesso alle tre perché ci lavorano tre ragazze prima ce ne erano cinque ci sono licenziate tutte e quattro in questo mese in cui ci sto io ma ok tra l'altro oggi dovrei anche riuscire a caricare un video che ho editato ieri sera e infatti ho chiesto a mia sorella se me lo metto in carica sperando che lo faccia comunque dicevo appunto alle tre venivano queste ragazze perché per ora ce ne sono due la proprietaria è quella che ci lavora la ragazza è venuta da poco perché appunto se ne sono andate tutte le altre quindi ha dovuto riprendiare quindi faccio la strada di prima andiamo a fare un giro tutte le cose bellissime il telefono e poi c'è la cera si è messo il ruolo qui poi c'è la polizia del viso scusate ma non c'è la luce sto blu si vede vedete una cosa bellissima qua libertà mi ha dovuto prendere il mio papi e ci andiamo a casa ciao amore mio ma chi è che si sta per fare il bagnetto ecco questo caglietto qui ecco questo caglietto qui ma non ha più colori e non ce l'ho più facciamo vedere Giorgia questo è il suo bagnetto dove adesso ce lo farà il suo bagnetto lui ce l'abbiamo anche noi da due ah si piace tanto fare il bagnetto mi piace fare il bagnetto mi piace la mia si dillo anche a loro mi piace si ok mi piace fare il bagnetto adesso aiuto i lenti vediamo anche a che percentuale star video sta al aspettate qua mese in cattore ci ho detto sta precisamente al ma mi stai brindando no al 48% all'84% scusate il colotto 28% sono venuti e lasciamo chi è? dove stai? è mia madre ok ma sei pronto? eh sì mi vuole letto per la giornata sei pronto? e beh diciamo che non è proprio quello che gli piace fare di scuola è vento amore ma non ti preoccupare vuoi uscire vai buccia un uomo nei lani la tua moscura piano 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 oddio oggi guarda con un guione oddio guarda come è vista oddio 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 piano piano ma che la faccia ma che la faccio non vuole non vuole non vuole ma come cosa vuole? e con me no oh dai la patata la patata la patata la patata la patata la patata guardala come c'è sta però che sta riprendendo oddio attenta tanta che schizzi oh no la risolidaria la fa oh no non riesce a prendere tutto il peso sulle sue gambine secche ma io so qua so a destra non so a sinistra oh ciao amore oh poi con il shampoo ce lo stavo mangiando non puoi mandare anche quello mamma eccolo se volete mettere la stufetta questo è cagionevole guardi ma che cosa dice che hai no prima era un castorino adesso è un giro più bello oddio guardi che c'è da te guarda guardi vuole uscire vuole scappare con la sua testa è impazzita è impazzita voi la vedete sempre calma ma non è così guardate 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 che vuoi fare fuggitivo fuggitivo hola a tutti allora praticamente mi sono tipo scordata di aver scelto il gioco oggi cosa ah questo oddio guardate guarda come è stato bello sei la bambina sei la bambina vabbè questo vlog non ti troverò guenda non mentire come l'hashtag selvaggio non mentire però e niente mi sono già in pigiamata scusate la riga qua la santa maria maddalena mamma mia sera ma posso guardare stiamo guardando qui come sempre di max questo programma questo programma si chiama così Ed Shefford pura morire è troppo figo tipo non so se molti di voi l'hanno visto come si chiamava nudi e crudi solo che lui sta da solo si riprende così da solo va bene quindi appunto la giornata finisce qua questo vlog scusate sarà corto però ecco era giusto per farvi vedere una giornata tipo spero appunto il vostro vlog vi sia piaciuto vi mando un enorme, 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 enorme e ci vediamo anche sul vlog ciao